rispetto all'altra volta c'è decisamente molta più acqua vediamo se riesco ad andare a far la doccia a vero dai 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 testaroni tagliati a quadratini triangolini come voglio, acqua abbondante ci aspettiamo che borra l'acqua, secondo me dobbiamo aspettare un attimo che bollissi di più ma guarda che non sarete comunque a bagno così, si mollano ma che deve avere va bene si controllo è passato a... stai facendo? si, testaroni pronti vedrai vedrai questo te li lascio così, io te li mescolo? dai dai una mescolatina veloce no 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 è già abbastanza è troppo dopo posto? posto? si e adesso? adesso ciao buon appetito buon appetito buon appetito ecco qua il testarono nel piatto bene adesso buon appetito ciao